Beppe Bruscolotti, un risultato al di là dei numeri e delle statistiche che comunque ci confortano è un risultato che comunque attesta anche la superiorità di questo Napoli in questa stagione? Beh appunto, prima discutevamo proprio di questo perché ha stracciato un po' tutti uso questo termine perché mi sembra giusto usarlo perché un distacco del genere la dice tutta quindi sta bruciando record su record così e insomma cosa possiamo dire? E anche oggi comunque ha avuto delle difficoltà però ancora una volta ha dimostrato la superiorità perché poi c'è stato un momento dove la squadra ha avuto un momento di pausa perché sono partiti con un ritmo elevatissimo quindi è normale che poi ci fosse qualche periodo così un pochino di tran tran però insomma alla fine nonostante abbia subito chi è subentrato questa è l'altra forza del Napoli chi subentra fa gol io anche io come Umberto sono innamorato del ciolito perché giocatore del genere non è che li trovi facilmente gente che entra e ti fa gol insomma la dice tante, ne dice tante e quindi la gioia poi che vedi insomma in questo ragazzo perché nonostante sia lì segregato in panchina per certi versi però insomma poi alla fine c'è il campo che anche quei due minuti e fai gol poi ti cancella tante cose e quindi anche questo è un momento particolare per tutti la gara, la gara insomma è stata una gara che la Roma ha giocato la migliore partita della stagione ha disputato una grande gara specialmente i primi 25 minuti insomma mettendo anche il Napoli in difficoltà sì sì c'era un'aggressione incredibile quindi Napoli ha dovuto lavorare tantissimo tanto è vero che poi nelle seconde parti verso il finale Napoli insomma non è che aveva più la solita brillantezza insomma quindi diciamo che per certi versi abbiamo rischiato come è successo abbiamo preso gol però poi insomma come tante partite Napoli è riuscito a capovolgere e portare a casa un'altra vittoria importante è questo ciò che conta, tre punti fondamentali è stata più la vittoria Cosmi di Spalletti su Murigno